Come usare l'autoipnosi per poterti liberare dalle emozioni negative? Oggi ti svelerò una strategia che utilizzo da moltissimi anni e che ho insegnato a moltissimi clienti per potersi liberare dalle emozioni negative. Naturalmente ti richiede qualche minuto, quindi non è una tecnica immediata, ma se vuoi avere degli effetti molto forti a lungo termine, questa è la tecnica principale. Ti basterà chiudere gli occhi. Una volta che hai chiuso gli occhi, immagina una scala. Questa scala potrebbe salire o scendere. Non è importante che tu decida prima se la scala debba salire o scendere. Devi infatti sapere che deve essere il tuo inconscio a scegliere se la scala scende o sale. Una volta che hai chiuso gli occhi e hai lasciato decidere al tuo inconscio se la scala sale o scende, inizia a percorrere gli scalini di questa scala. Quindi se sale, inizia a salirla. Se scende, inizia a scenderla. La scala è di 10 scalini che possono essere fatti di qualsiasi materiale reale, tipo legno, tipo ferro, tipo mattoni, oppure di fantasia, tipo aria, fuoco, acqua, o anche energia. Se la scala sale, inizia a contare da 1 in 10 mentre la sali. Se scende, inizia a contare da 10 a 1 mentre la scendi. Una volta che hai finito il conto ti ritrovi in un luogo nel quale ti senti particolarmente a tuo agio. Sarà il tuo inconscio a decidere qual è questo luogo. Potrebbe trattarsi per esempio di una spiaggia, potrebbe trattarsi di un bosco, potrebbe trattarsi anche di una città. Un luogo che per il tuo inconscio ti fa sentire particolarmente rilassato e tranquillo. Inizia a percorrere questo luogo e a camminare in questo luogo, fino a che a un certo punto non noti un albero con dei rami. E attaccato a questi rami ci sono dei fili, due fili, ai quali attaccati ci sono due palloncini, uno rosso e uno blu. Ti avvicini, uno dei due palloncini, quello blu, contiene tutte le tue preoccupazioni e quello rosso contiene tutta la tua rabbia. Prendi con la tua mano dominante, quindi destra se sei destro orso o sinistra se sei mancino, il filo del palloncino rosso. E con l'altra mano la sleghi, sleghi il filo dal ramo, tenendo però ben forte con l'altra mano il filo in modo che non voli via il palloncino. Una volta che hai slegato questo filo, apri la mano e lasci volare il palloncino. E mentre il palloncino vola e si allontana su nell'aria, tu lo osservi e vedi che va sempre più in alto, diventa sempre più piccolo, quasi fino a quando non riesci più a vederlo. La tua rabbia si sta allontanando e sta diminuendo sempre di più. Fai la stessa identica cosa col secondo palloncino, che contiene le emozioni negative, come tristezza, demotivazione o stanchezza. E anche qua lo vedi volare via e allontanarsi sempre di più. Si allontana, si allontana, si allontana e con il palloncino si allontanano le tue emozioni negative, così come si è allontanata la tua rabbia. Quando devi stivolare così lontano da non poterli vedere più, puoi tornare alla scala e iniziare a percorrere al contrario. Quindi se all'andata sei salito, adesso la scendi, se all'andata sei sceso, adesso la sali. Arrivi a questo punto, alla fine della scala, torni nel presente e apri gli occhi. E una volta aperti gli occhi sentirai le tue emozioni negative che sono diminuite.